Eccoci, siamo a Predazzo in compagnia di Stefano Crafonara che è il proprietario dell'hotel Ancora, appunto in centro alla località. Ciao Stefano, bentrovato. Ciao Roberto, grazie. Allora, un'estate diversa, finalmente si è tornati alla normalità, via le mascherine, i clienti sono tornati, quali sono le tue sensazioni? Innanzitutto è bello rivederti in viso, rivedere il viso di tutti gli ospiti e poter anche trasmettere un sorriso perché credo che sia uno dei punti più importanti del nostro prodotto. Niente, siamo partiti bene, abbiamo alle porte una stagione estiva, mi sembra abbastanza buona, l'occupazione già per luglio-agosto è sicuramente valida, ma andremo avanti noi fino a settembre inoltrato, anche probabilmente una parte di ottobre, dove abbiamo alcuni anche eventi importanti. Non dimentichiamo la desmontegada a fine del mese di settembre, che è un momento folkloristico molto importante, è il ritorno del bestiame dall'alpeggio verso il paese. Una sorta di transumanza, insomma, no? Sì, sì, perché come sapete i nostri agricoltori, contadini, portano il bestiame all'inizio dell'estate su in quota, verso i 1600 metri, per fargli fare un po' di vacanza anche a loro. Ecco, per quanto invece riguarda quello che è un po' il vostro simbolo, che sono le escursioni, no? Quest'anno avete aumentato rispetto agli altri anni? Ma sì, quest'anno abbiamo alcune novità, alcune attività nuove, facciamo anche il canyoning, abbiamo sempre Beppe, che è la nostra guida, Giuseppe Bellanca, certo, che ci accompagna da diversi anni. Sì, abbiamo tante cose, abbiamo le bici elettriche nuove, facciamo dei tour accompagnati con le e-bike, il settembre è sicuramente un mese assolutamente indicato per fare anche tutte queste attività sportive, non c'è più... A meno caldo, ecco, diciamo... A meno caldo, non c'è più... Sotto questo punto di vista. Esatto, la ressa dell'agosto, naturalmente abbiamo delle ottime offerte anche per la fine stagione. Qui vicino c'è il Biolago, per chi vuole prendersi la tintarella e farsi un bacio, può approfittare. Abbiamo il Biolago, che è spettacolare, abbiamo anche un'altra formula dei nostri Residence, per chi non vuole essere impegnato con gli orari dell'albergo, le famiglie, eccetera, abbiamo tre Residence, che lo ricordo, sono il Crystal, il Color Home e il Lago Rai, tutti qui a Predazzo. Stefano, vogliamo dare l'indirizzo internet del sito per potervi visionare, contattare eventualmente? Certo, allora, l'hotel Ancora è il www.ancora.it. Per i Residence io vi indicherei questo sito che è quello generale, che è il www.fiemmeholidays.it. Benissimo, allora da Predazzo è tutto, buona giornata e buona estate. Grazie e buona estate a tutti, un abbraccio.